Ciao ragazzi, sono Gaia Caico, con questo video vi raccomando di stare ad almeno un metro gli uni dagli altri, di lavarvi spesso le mani o di pulirle con soluzioni a base alcolica. Impegniamoci tutti quanti per risolvere questa situazione il più presto possibile e mi raccomando. Ciao a tutti ragazzi, io sono Alberto, uno dei quattro rappresentanti del Vigano di Merate e ci siamo sentiti in dovere di fare questi video per sensibilizzare tutti voi ragazzi alla tematica del coronavirus e a tutto quello che sta succedendo in Lombardia in questo periodo. Sicuramente vi invitiamo a seguire tutti i vari vademecum rilasciati dal Ministero della Salute, dall'OMS o comunque dalle autorità competenti. e rinvitiamo a evitare luoghi affollati, se dovete starnutire mettere la mano davanti o il fazzoletto ancora meglio e se proprio non si ha un fazzoletto starnutire o a sua volta tossire nella piega del gomito, come già abbiamo visto nei vari media e telegiornali di vari. E soprattutto, se pensate di presentare alcuni sintomi riguardanti questo virus, di non allarmarvi prima di tutto e soprattutto non andare al 118. Ma aspettare a casa, stare tranquilli, chiamare le autorità competenti, vari numeri verdi ormai attivati per questa emergenza nazionale e seguire tutte le norme elencate e dette dai vari ministeri. Confidiamo in voi, ragazzi, per combattere e contenere questa infezione che ormai sta prendendo sempre più piede nella nostra regione. Confidiamo in voi e nel buon senso. Ciao ragazzi, sono Magri Michele, uno dei rappresentanti dell'Istituto del Viganò di Verate. In queste ultime due settimane ci siamo impegnati per fornire un'informazione corretta su tutti quelli che erano i decreti che hanno interessato le nostre scuole. Ecco, grazie alla vostra fiducia e alla comunicazione siamo riusciti a fronteggiare al meglio tutte quelle criticità e situazioni di caos, cosa che invece non tutti gli istituti sono riusciti a fare. Ecco, quindi il mio consiglio, il mio invito è semplicemente questo. Continuiamo sulla stessa strada, come abbiamo fatto fino ad adesso, affidandoci soltanto ed esclusivamente a quelli che sono i canali ufficiali, seguendo chiaramente quanto ci viene detto per noi e per gli altri. Ciao ragazzi, sono Pietro Colombo dell'Istituto Francesco Viganò di Verate e mi hanno fatto notare che nonostante le nuove norme ci sono ancora troppi ragazzi che quotidianamente si trovano nelle piazze o nei vari bar e come vostro rappresentante, ma soprattutto come persona, vi chiedo di sacrificarvi per un periodo limitato adesso e prima lo capite, prima potremo tornare alla nostra vita di tutti i giorni. Grazie.